Buongiorno a tutti dal forno di Elio e benvenuti ad un nuovo Bipop and Go. Abbiamo deciso di regalare un vassoio di ravioli o frappe misto di carnevale. Per partecipare non dovete far altro che taggarci commentando nel post qui sotto. Ciao a tutti e buona fortuna! Ciao a tutti!